Seconda notte dopo la partenza, direi tutto bene, queste ore sono abbastanza intense, vento, 20 nodi, velocità pazzesca, non fatto il mare, restate 37 nodi, belli ondoni di 2-3 metri, bella sportiva la faccenda. Siamo messi benissimo, molto contenti, siamo dove volevamo essere, in controllo sugli avversari, la stravenuta, noi non molliamo.